buongiorno eccomi qua sono tornata non sono sparita e da un po di mesi che non registro podcast questo podcast comportamento cane diciamo che l'ho un attimo sospeso a vantaggio di altre cose altre situazioni così di cui magari un giorno vi parlerò in una puntata dedicata anche perché è successa una cosa verso il mese di settembre che ha anche un po deviato in positivo la mia la mia carriera ok ho iniziato a studiare altre cose a prendere altre direzioni ciò non vuol dire che abbandonerò abbandonerò la rieducazione assolutamente andrò avanti anche perché ho la scuola eccetera però c'è qualcosa in più ecco di cui vi vi parlerò prossimamente però adesso siamo qui pronti oggi vi parlerò di cani diamante chi sono perché li chiamo così perché in effetti li chiamo io cani diamante prima li chiamavo cani cristallo poi ho visto che un paio di caratteristiche del cristallo non sono le caratteristiche dei cani diamante per esempio una è la fragilità i cani diamante non sono affatto fragili o comunque hanno delle fragilità dei punti fragili ma sono dei cani molto forti in realtà i cani diamante perché nella loro forza riescono a trovare lo spunto per sopravvivere per andare avanti ok un'altra caratteristica del cristallo che non hanno i cani diamante la trasparenza i cani diamante non sono molto non sono così trasparenti non è molto facile individuare effettivamente o capire al cento per cento un cane diamante anzi è esattamente l'opposto i bagliori della del diamante le mille sfaccettature ai cani il diamante che confonde mi dice niente quindi i cani diamante sono così in questa puntata parleremo proprio proprio di loro se già un po mi segui anche sui social sai quanto io ci tenga al tema dell'inclusione e dell'accettazione anche in ambito animale quindi non solo per ciò che riguarda la diversità delle persone umane anche gli animali hanno diritto di essere diversi tra loro ve lo dice una che è stata anche abbastanza ghettizzata ok con con il proprio cane non so se conoscete un certo alex perché questo cane aveva dei comportamenti abbastanza forti diciamo così tra virgolette quindi anche proprio in ambito di formazione in ambito proprio formativo eh io ero messa sempre un po nell'angolo un po anche dimenticata ok perché come anche vi ho detto altre volte se avete seguito anche qualche altro podcast o qualche mia diretta vi ho raccontato della mia esperienza in alcuni ambiti di formazione comunque vabbè sorvoliamo però io non lo faccio io non lo faccio ovviamente con i mie le mie famiglie le famiglie che si rivolgono a me che hanno dei cani difficili cerco sempre di fargli percepire questa questa loro diversità come un punto di forza di fargli vedere sempre i punti di forza del proprio cane e di fargli anche vedere i punti deboli degli altri cani perché tutti abbiamo punti di forza e punti deboli ok nessuno è perfetto anche quando magari vi sembra di vedere un cane perfetto in realtà poi sotto sotto scova scova scava scava parla 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 qualcosina qualcosina esce ok ne ho abbastanza accumulato abbastanza esperienza da sapere che è così ma va bene così assolutamente però chiaramente ci sono dei comportamenti che a livello sociale vengono più accettati quindi accettati di buon grado altri che proprio non vengono accettati quindi tutti gli animali i cani e loro umani devono essere rispettati e accettati nella loro essenza anche se questa non rappresenta non rispecchia alcune caratteristiche standard appunto socialmente accettate o volute o addirittura pretese diciamo così comunque adesso dopo quasi cinque minuti di podcast finalmente mi presento perché magari non tutti mi conoscete magari c'è qualcuno che è arrivato qui per la prima volta io sono meri sono una rieducatrice una rieducatrice cinofila sono anche una master re che una floriterapeuta e adesso ho iniziato un nuovo percorso di formazione che però di cui però vi parlerò più avanti però io aiuto le persone a vivere la miglior vita possibile insieme ai loro cani anche se sono cani un po difficili una vita abbastanza in equilibrio in realtà possiamo estendere questo mio tra virgolette aiuto anche alle persone che hanno magari altri animali ok quindi non solo cani torniamo a bomba sull'argomento del podcast perché poi io mi faccio voli pindarici mi perdo un po in chiacchiere eccetera però torniamo a bomba sull'argomento allora continuo a parlare di diversità i cani sono tutti diversi tra loro quindi esattamente come le persone sono hanno delle diversità punti di forza e punti deboli però si fa fatica ad accettare questa diversità soprattutto quando le aspettative vengono disattese cioè quando io decido di prendere un cane mi faccio un film mentale quindi io mi aspetto un certo tipo di vita con il mio cane invece poi scopro che è tutto diverso le cose non sono come me le aspettavo come me le ero immaginate questo dipende anche da come la società ci mostra la relazione con i cani ma non solo magari la società quindi rispetto a ciò che noi vediamo intorno a noi ok al parchetto piuttosto che al negozio piuttosto che al ristorante eccetera ma anche ciò che in mass media i mezzi di comunicazione di massa e ultimamente i social che davvero irrompono prepotentemente le nostre vite ci propongono quando noi vediamo magari dei video sui social video fatti da altre famiglie o addirittura da addetti ai lavori perché ormai penso che la professione dell'educatore cinofilo dell'istruttore dell'addestratore ormai è una tra le professioni che più viene messa alla merce proprio dei social quindi la merce di tutti purtroppo così si ottiene un'informazione a macchia di leopardo che non ti può mai dare la contezza effettiva di quello che succede anche perché non ci vuole nulla fare un video tagliarlo rabboccarlo per dare magari un'idea che non è effettivamente la reale ok ti presento una situazione che non era la reale situazione però chi guarda dall'altra parte fa immediatamente il confronto con quello che effettivamente si trova ad avere in quel momento a casa parliamo sempre di relazioni con il cane ok vediamo sempre tutto perfetto il cane che obbedisce che deve obbedire il cane che sta al passo che deve tornare quando viene chiamato che deve fare la guardia però non deve essere aggressivo con le persone che deve fare la guardia però non deve essere aggressivo questa cosa qui proprio non mi torna effettivamente oppure deve difendere il territorio ma solo se il proprietario non è presente insomma cioè cose un po fantascientifiche quindi una gran sfilza di deve o non deve fare che un po' banalizza quella che è la figura del cane ma mette in crisi poi la famiglia quindi quando prendiamo un cane ci aspettiamo quello effettivamente quello che vediamo dall'altra parte una vita patinata col mio cane da copertina tutto perfetto tutto meraviglioso se compriamo il cane di razza ci aspettiamo che rispecchi perfettamente quelle caratteristiche di razza ok né più né meno quindi il golden retriever è un cane buono punto perché così per forza il golden retriever deve essere un cane buono però ok golden sono dei cani buoni adesso dobbiamo potremmo anche discutere su che cosa vuol dire un cane buono ma non vi dico quanti golden ho nella mia scuola che tutto sono tranne che buoni diciamo ma non nel senso che sono hanno dei comportamenti frequentemente aggressivi semplicemente sono dei cani che insomma danno un bel da fare che sono praticamente come li chiamo io degli adorabili squilibrati oppure il passore tedesco è un cane tutto d'un pezzo no posato equilibrato ponderato eccetera e poi invece è pieno di passori tedeschi con l'ansia proprio pieni di passori tedeschi con l'ansia che se li divora in mano a gente quindi a persone umane ancora più ansiosi di loro e quindi l'equilibrio del passore tedesco ci abbandona decisamente per non tornare mai più ma noi li amiamo proprio per quello come dico io più sono stronzi tra virgolette più li amo se invece prendiamo un cane magari da un rifugio da un canile no ci aspettiamo un cane docile è riconoscente a vita nei nostri confronti solo perché lo abbiamo salvato mille virgolette perché a me non piace usare queste insomma questi questi appellativi cane salvato eccetera non mi piace quindi solo perché l'ho preso diciamo l'ho tolto da una situazione che magari poteva essere una brutta situazione il mio cane deve essere buono ok per forza deve fare tutto quello che gli chiedo deve essere timido sottomesso guai a ribellarsi eh guai a mostrare un minimo di carattere non sia mai al contrario deve portarci ogni giorno il giornale le ciabatte deve farci il caffè la mattina ci deve servire umilmente per tutta la vita solo perché lo abbiamo tra mille virgolette salvato ok vabbè come dicevo le aspettative possono essere disattese che il nostro cane potrebbe rivelarsi diverso da come lo avevamo immaginato a volte ci rendiamo conto semplicemente che l'impegno che ci siamo presi un po' incoscientemente è ben al di là delle nostre possibilità di quel momento ad esempio parliamo di uno a caso alex lo conosci vabbè lui alex è stato diciamo è tuttora e sarà per sempre il mio primo cane magari non l'unico ma sicuramente il mio primo cane per sempre sinceramente lui come primo cane non è proprio quello che si suol dire una passeggiata di salute ok una botta di salute io per esempio non immaginavo minimamente che potesse essere così difficile gestire alcune situazioni con un cane come alex ok ad una certa età alex ha cominciato a non voler più che le persone per strada interagissero con lui ma non solo con lui con lui e con me ma fino a pochi mesi prima alex era un cane che si faceva accarezzare toccare addirittura prendere in braccio dalle persone anche che magari aveva incontrato lì in quel momento lui l'avevano chiamato trudi i volontari che l'avevano trovato perché era una palla di pelliccia era proprio una bambagina era una bambagia tutto nero e bianco era bellissimo l'avevano chiamato trudi appunto però questo trudi ad un certo punto ha cominciato a minacciare le persone che solo li passavano vicino per strada ancora adesso che ovviamente con gli anni imparato ad essere più tollerante perché abbiamo fatto tanto lavoro finché quando io ho capito effettivamente in che modo dovevo impostare la relazione con lui quindi è diventato più tollerante ha imparato a gestire le sue emozioni ha imparato a valutare meglio le situazioni che gli si presentavano prima ancora di partire prevenutissimo perché lui partiva molto prevenuto nei confronti delle persone di alcune situazioni dicevo ancora adesso dopo tutto questo questo percorso di crescita che abbiamo fatto insieme lui non si fa toccare da nessuno da nessun estraneo quello che fa ovviamente non è più minacciare o addirittura partire prevenuto prima ancora che la persona potesse allungare la mano anche solo fare il cenno adesso quello che fa è che si sposta e basta che al massimo fa un ringhione da lontano eccetera però prima diciamo faceva minacciava molto molto più efficacemente platealmente diciamo ok molto spesso a fronte di questo comportamento di alex le persone si intristiscono e dicono ma poverino ha paura è stato picchiato dalle persone ha subito dei traumi no perché poi le persone pensano subito a questo di fronte a un cane che invece di farsi toccare di farsi accarezzare tutto felicione questo cane si rigidisce si si tira indietro si strottrae proprio e no sinceramente no alex non ha mai subito dei traumi ok che riguardassero le persone lui è nato da una mamma libera una mamma non primipara libera ma accudita da un gruppo di volontari quindi curate eccetera poi quando questi volontari hanno visto che c'erano tutti questi cuccioli erano tantissimi lui è stato preso trasferito con la mamma stessa in una pensione dove era a contatto con tanti volontari che se li coccolavano e mandavano dei video bellissimi dove c'erano questi volontari che giocavano con i cuccioli cuccioli che giocavano con gli adulti che giocavano tra loro lui era uno con tanti fratelli ok quindi le persone gli altri cani lui le ha diciamo visse da subito la socializzazione nei confronti di cani e persone per alex si è svolta correttamente anche perché poi è arrivato da me a due mesi e mezzo e da lì ha cominciato ovviamente ad uscire in passeggiata sin da subito a socializzare quindi la socializzazione è continuata correttamente con cani con adulti equilibrati tutti i cani che abita che abitano vicino a casa nostra con persone anche che avevano cani di un certo tipo no che insomma ne capivano anche abbastanza di cani e aveva il suo gruppo di amici molto equilibrati dove c'erano all'interno anche delle persone e dei bambini quindi per quello sono stata davvero molto fortunata perché ho potuto dare far fare ad alex una corretta socializzazione a 360 gradi nell'età sensibile in cui la socializzazione va fatta perché purtroppo c'è un'età in cui la socializzazione va fatta ma quindi il problema dov'è i comportamenti aggressivi frequenti di alex nei confronti delle persone e di alcuni cani da dove derivano non da traumi non da traumi della sua vita perché non ne ha avuti il punto perché in effetti non voglio tanto chiamarlo problema è perché poi le cose dobbiamo anche chiamarle con il loro nome ma a volte diamo dei nomi che vanno un po ad appesantire il concetto in sé quindi il punto è l'indole il carattere la personalità del cane quindi quella specie di misto di mix tra caratteristiche familiari ereditate quindi dei genitori caratteristiche di razza ovvero tutti quei comportamenti tipici di quella razza o di quel mix di razze ed è l'interpretazione che l'individuo in sé quindi in questo caso il cane ne ha fatto quindi l'interpretazione che ha fatto di tutto ciò che gli è capitato e accaduto nella vita dal momento in cui l'apparato sensoriale ha cominciato a svilupparsi quindi dalla pancia della mamma per alcuni sensi ok quindi tutto questo che ti ho detto a volte non matcha bene con le sollecitazioni che il cane subisce ok è proprio caso di dire subisce perché magari fosse per lui non le vorrebbe neanche subire da noi che siamo la sua famiglia il suo sistema a casa nostra ovviamente nell'ambiente in cui noi li abbiamo introdotti ok quindi il cane diamante non è un cane traumatizzato o meglio potrebbe anche essere un cane che ha subito un trauma specifico ok e pagare magari le conseguenze di quello specifico trauma ma aver subito un trauma specifico non fa di un cane un cane diamante un cane diamante è un cane che lotta continuamente per l'adattamento ok a volte ce la fa altre no lotta continuamente tra quello che noi ci aspettiamo da loro e quello che loro effettivamente possono darci ma non perché gli manca qualcosa o hanno subito dei traumi o c'è qualcosa che non è andato c'è che è andato storto nel loro sviluppo potrebbe anche non essere così sono cani che hanno qualità immense non sfruttate la maggior parte delle volte ok ecco perché dico non sono diamanti grezzi perché non hanno bisogno di nessuno che vada a renderli dei diamanti fatti e finiti loro sono già fatti e finiti sono bellissimi sono tagliati ad hoc ma i cani diamante sono spesso gettati nel fango ecco sono diamanti gettati nel fango cioè inseriti in qualcosa che non li valorizza ok hanno mille sfaccettature hanno mille bagliori spesso neanche colti ricordo che la definizione cane diamante che appunto è una mia definizione può anche riguardare un cane che ha una patologia una patologia cronica che ovviamente si ripercuote sul comportamento perché psiche emozioni e mente sono strettamente collegate non possiamo pensare a una di queste senza l'altra che non abbia ripercussioni la psiche sulla mente il corpo sulle emozioni eccetera ma i cani diamante non sono cani cattivi e sono cani che in alcuni contesti e in alcune situazioni si sentono deboli o sofferenti si sentono un po fuori contesto anche perché la maggior parte delle volte nessuno li capisce sono coperti da fango vengono coperti da fango sei un cane come dicono le ammaestra folle che è una tempra bassa è un cane aggressivo è un cane agitato è un cane pauroso è un cane suberante no è un cane diamante un cane diamante coperto di fango qualcuno lo deve portare alla luce perché altrimenti come facciamo a godere dei loro mille bagliori della loro forza ok un cane diamante alex che quando esce di casa deve fare il pastore deve fare il pastore guardiano e quindi lui ha una missione ogni mattina lui deve uscire di casa come io io mio marito lo prendiamo in giro Alex deve andare al lavoro no quindi è proprio esce come se fosse una missione la sua quando decide che ora inizia mi viene a chiamare dai su su forza 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 si mette davanti alla porta li metto la pettorina si mette lì fermo mi guardano come a dire ma ancora dai che io ho da fare devo andare al lavoro esce proprio con il piglio di chi deve fare una cosa importantissima deve fare la missione della vita lui deve andare deve leggere i messaggi degli altri cani deve lasciare i suoi messaggi importantissimi o i suoi feromoni ma sulla sua strada incontra continuamente elementi disturbanti e poco sensibili che sono i grezzoni sia a due zampe sia a quattro zampe che invadono la sua zona intima continuamente che non rispettano i suoi segnali completamente insensibili no e poi deve deve trattare sempre in continuazione con l'umana che sarei io che magari non vuole fare strade diverse non vuole interagire oppure vuole interagire per forza con individui che a lui non piacciono no magari mi voglio fermare a parlare non mi voglio mi fermano gli altri solito a parlare con qualcuno o salutare quell'altro o andare vicino al cancello dove c'è il cane che lui non piacciono e quindi tutto ciò nella sua mente non ha una giusta collocazione non ha un'utilità perché io mi devo mettere a parlare con uno che non mi piace perché io non devo andare lì perché devo lasciare la mia traccia perché tra 15 giorni c'è quella femmina che in calore perché non devo andare a marcare quella zona perché c'è quell'altro cane che è passato che ha detto che questo è il mio territorio no no vado io a dire quello è il mio territorio ok i cani diamante sono complicatissimi sono intelligentissimi sono sensibilissimi sono i cani che hanno dei comportamenti non accettati della società umana perché sono comportamenti da cane ok non sono comportamenti da umani e quindi sono comportamenti di difficile gestione e accettazione per noi umani che non sono cani aggressivi o cani fobici perché non esistono nei cani aggressivi nei cani fobici e ricordatevi bene sono semplicemente cani diamante sono diamanti nel fango quindi sono cani giusti ma nel contesto sbagliato ok quindi dobbiamo prendere il nostro diamante dal fango pulirlo e metterlo nella nella techina con la luce sopra così si vede bene no si vede bene che cos'è si vedono bene tutti i suoi i suoi bagliori perché ciò che per la maestra folle è fango ok per noi è un diamante quindi il compito di noi umani di cani diamante è quello di imparare a comprenderli e imparare come togliere loro la pressione come aiutarli a smussare i comportamenti che magari si sono anche un po' inaspriti con il tempo no a furia di essere reiterati senza però partire con l'obiettivo di cambiarli no perché il cane diamante non lo cambi perché è come cambiare la margherita in una rosa una rosa in un giglio non li puoi cambiare ok li puoi soltanto valorizzare sono cani che tra l'altro ci pongono davanti ai nostri limiti e lo fanno ogni giorno sono cani che arrivano per farci crescere ok perché i diamanti hanno hanno bisogno di essere indossati da qualcuno ok per rendere quel qualcuno ancora più bello per diciamo valorizzare qualcuno ok quindi io spero di averti dato un po' l'idea di chi per me è un cane diamante quindi adesso questi queste puntate di questo podcast andranno avanti mi sono ripromessa di farne una settimana c'è un canale un mio canale telegram che meriveg canale tutto attaccato dove puoi entrare puoi anche cercarlo su telegram oppure sui miei social trovi il link diretto dove puoi mandarmi le richieste per argomenti da trattare nelle in queste puntate nelle nelle scorse puntate spesso proprio risposto ad alcune domande che mi venivano fatte via mail oppure via telegram via direct quindi se hai una domanda o un caso no se vuoi parlarmi del tuo cane diamante fallo pure in questo canale oppure magari nel mio gruppo se vuoi comportamento cane oppure mi puoi inviare una mail non ci sono problemi o un direct su instagram intanto i modi per contattarmi sono tantissimi ok quindi io aspetto che mi racconti del tuo cane diamante magari se è un racconto molto interessato posso pensare di fare una puntata di questo di questo podcast quindi se hai un racconto da farmi sul tuo cane diamante posso pensare di farne una puntata di questo di questo podcast nel frattempo io spero che tu abbia individuato nel tuo cane piuttosto che un cane aggressivo un cane fobico un cane ingestibile un cane agitato un cane vivace tutti questi appellativi che veramente non si sopportano io non li sopporto meglio parlare di un bellissimo cane diamante dobbiamo trovare i punti di forza del tuo cane diamante come aiutarli e per adesso ti saluto ciao e ci vediamo al prossimo podcast